Passano in Consiglio regionale il documento di Economia e Finanza 2021-2023 e la relativa nota di aggiornamento. I due provvedimenti sono stati votati a maggioranza, non senza polemiche. Il numero legale è venuto a mancare sul riconoscimento di un debito fuori bilancio contenente anche un emendamento con cui veniva stanziato un milione di euro in favore del Campus Ricerche Alta Formazione Nicoromito. Già lo scivolone di ieri sera sul caso Nicoromito e su quella sveltina che hanno confezionato, anche mancando di rispetto, a dire il vero, rispetto allo chef stellato e alla sua scuola, fanno vedere, fanno emergere le profondissime divisioni. È un bilancio, come accennavo, con 50 milioni di euro di tagli, con un 8% lineare, tranne ovviamente che per il Festival dei Cartoni Animati e per il Napoli Calcio, che sono gli impegni di Marsilio, è che taglia dappertutto, dal sociale al diritto allo studio, dai trasporti per arrivare ovviamente alle spese per il rilancio dell'economia, dove per le imprese con il bilancio di previsione non c'è nulla. E aggiungo in coda che è un bilancio illegittimo, se non lo correggono verrà certamente impugnato, perché addirittura con entrate incerte, probabili dicono, possibili, finanziano spese obbligatorie, questo è illegale, illegittimo, sarà sicuramente impugnato. In fondo anche una guerra tra Giunta e Consiglio. La Giunta porta al Consiglio un disegno di legge dove cancella gli uffici finanziari del Consiglio e cancella il potere emendativo dei consiglieri, perché è rimesso a una valutazione, secondo la Giunta, emendamento per emendamento del Collegio dei Revisori. Prima del DEFRE, l'Assemblea ha approvato la proroga del piano sociale regionale 2016-2018. Il documento di economia e finanza è passato con un emendamento presentato dal capogruppo di Forza Italia Mauro Febbo, con cui è stata definitivamente cassata la proposta di project financing per l'ospedale clinicizzato Santissima Annunziata di Chieti, risalente alla precedente legislatura. Chiaramente è una cornice dentro la quale la Regione Abruzzo poi creerà le scelte attraverso la finanziaria. Quindi il percorso per l'approvazione del bilancio che si terminerà nel periodo tra Natale e Capodanno è partito con i lavori della Commissione bilancio che hanno approvato l'economia e finanza e si concluderà il 28 e il 29 con l'approvazione della finanziaria, che passerà anche questo attraverso i lavori della Commissione bilancio. Quindi tutto come previsioni, tutto il percorso è stato fatto secondo i tempi, secondo i termini previsti dalla conferenza dei capogruppo. Poi ci sono state oltre 15 ore di confronto con le opposizioni, oltre 40 interventi da parte delle opposizioni che hanno chiesto le addizioni degli assessori che si sono presentati in Commissione e hanno spiegato tutte le dinamiche presenti all'interno del documento di economia e finanza regionale. Quindi non è stato strozzato nessun dibattito, anzi il dibattito è stato ampio nei termini, giusto e su questo noi siamo soddisfatti del percorso avviato fino ad ora.